ciao ben ritrovato a tutte quante oggi volevo fare un live ma non ci sono riuscita mi dispiace però non è detto che in settimana non rientri per fare un live per una piccola mini lezione però perché sono qui e mo ve lo dico allora no sto creando una creazione che aveva abbandonato in settimana che ho avuto da fare non ricordate l'anellino che vi ho fatto vedere la settimana questo qui però questo è un po più piccolo me ne avevo parlato e sto facendo un tutorial ecco creato un tutorial lo sto terminando però non sono sicura se farvelo vedere non lo so devo decidere ci devo pensare sopra ci ho riflettuto ve lo faccio vedere solo perché non sono riuscita ad entrare live questo fine settimana e farvi una piccola lezione cina e perché sto allungando un po troppo questo questo tutorial che mi piace tantissimo spero che anche a voi piaccia e ve lo faccio vedere eccolo qua devo levare ancora tutti i fili e lo devo sistemare lo devo chiudere spero che vi piaccia non lo so fatemelo sapere e dimmi voi se vi piace o no e comunque io già l'ho fatto pertanto il tutorial ve lo dovete beccare lo stesso chi mi segue su facebook ammagramè perline e sutace lo sa che sono fatto così e non mi potrete cambiare un bacione e molto probabilmente lo troverete domani sul mio canale